Ciao, sono Giulia del Boghera Film Festival. Per quest'anno la nuova edizione torna in presenza, quindi vi aspettiamo sabato 9 ottobre al Teatro dei Padri Barnabiti a Boghera. Iniziamo alle 16 con la proiezione dei cortometraggi internazionali. Subito dopo, alle 18.30, ci sarà la premiazione dei corti e delle sceneggiature originali. Riprendiamo poi alle 21.15 con la proiezione fuori concorso del documentario Flash, la storia di Giovanni Parisi. Continuiamo poi alle 23 con la notte horror. Ci saranno quindi la proiezione dei cortometraggi selezionati e la premiazione. Subito dopo, proietteremo fuori concorso l'esodo alla regia di Giulio Aldrati, il corto con film. Vi consigliamo inoltre di prenotare il vostro posto alla mail www.voghera.fimpestival.com e vi ricordiamo che per accedere all'evento è obbligatorio il Green Pass. Ci vediamo il 9 ottobre. Ciao! Ciao! Ciao!